Vedete, amici e amiche, quello che io ho trovato al mare, la natura ci restituisce con molta più bellezza tutto quello che noi buttiamo e che meraviglia delle meraviglie con bellezze veramente eccezionali. Quindi vedete che c'è natura, arte, bellezza e tutto quello che voi potete veramente notare. Buon pomeriggio amici ed amiche, vedete che c'è nel mio atelier, potete notare, opere che osserverete con tranquillità se verrete. Ma anche se non venite, io vi faccio vedere il mio atelier così entra nelle vostre case. Buon pomeriggio, un abbraccio da il vostro amico Giovanni Alessi che ha questo atelier in via Ferdinando Pompeano, 11 Mazzara del Vallo, Sicilia, Italia. Un abbraccio, ciao! Ciao!